Entriamo nel menu con il tasto dedicato, voce set point, premiamo invio. In questa schermata abbiamo set point nominali per riscaldamento sanitario, cioè set point che vogliamo raggiungere per il riscaldamento del nostro impianto e per il riscaldamento del nostro sanitario, se macchina dotata di valvola trevie. Generalmente non ci sono controindicazioni, se non che la temperatura del sanitario non deve mai eccedere i 52-53 gradi. Allora, per la modifica semplicemente premiamo il tastino invio, con la freccia verso l'alto aumentiamo di 0,1 gradi, con la freccietta verso il basso diminuiamo di 0,1. Premendo una seconda volta invio andiamo a modificare il sanitario con la stessa tipologia di modifica. Premendo la tastina in giù accediamo al B02 set point energy save. Set point energy save mi permette di avere un secondo set point, generalmente energy save, lo descrive la parola, è un set point dove abbiamo un risparmio energetico della macchina, per cui generalmente inferiore. Il set point energy save si attiva tramite la funzione timer che abbiamo visto prima e ovviamente la modalità di modifica è la stessa, freccia verso l'alto aumentiamo di un grado, freccia verso il basso diminuiamo di un grado. Lo stesso vale per il sanitario.